Nella giornata di venerdì 1 novembre la Calabria ha registrato due sbarchi di migranti, uno a Rocella Ionica e l'altro a Crotone, con un totale di 125 persone arrivate sulle coste. In entrambi i casi, i migranti sono stati prontamente soccorsi dalla Guardia Costiera, che ha garantito assistenza e sicurezza durante le operazioni di sbarco. A Rocella Ionica sono giunti 84 migranti, provenienti principalmente da Iran e Iraq. Tra di loro si contano 48 uomini, 19 donne e 17 minori, alcuni dei quali non accompagnati. Questo gruppo include anche due disabili che presentano difficoltà motorie. I migranti sono stati intercettati a largo, mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela, partita sei giorni fa da una località non specificata della Turchia, affrontando un viaggio lungo e rischioso. Per quanto riguarda lo sbarco a Crotone, 41 migranti sono stati accolti, di cui 35 adulti, 30 uomini e 5 donne e 6 minori, 5 dei quali non accompagnati. I profughi sono di nazionalità afghana, pakistana e iraniana. Grazie al coordinamento della Prefettura e alla gestione dell'Ufficio Immigrazione della Questura, sono stati sbarcati e, dopo aver subito i primi controlli sanitari, sono stati trasferiti nel centro d'accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Questi eventi evidenziano la continua pressione migratoria della regione, sottolineando la necessità di un'assistenza adeguata e di politiche efficaci per gestire l'arrivo di persone in cerca di sicurezza e opportunità in un contesto sempre più complesso. La situazione richiede un impegno costante da parte delle autorità locali e nazionali per garantire una risposta unitaria e ordinata.